La Samp ha trattato Gionber del Catania, ha offerto 4 milioni di euro al Catania che però ha rifiutato, tra l'altro il Catania ha rifiutato anche un'offerta del Verona per Spolli e Leto e allora la Samp sta provando a prendere sempre un difensore, piacciono sempre Tavares e sta considerando l'ipotesi di prendere Coates, difensore centrale del Liverpool della nazionale uruguayana che era nei 23 di Tavares. L'Udinese ha preso Van de Bruggen, un centrocampista del Ghent classe 93, l'Empoli invece sta per chiudere l'Axalt con l'Inter che ha lasciato il ritiro dell'Inter per andare a parlare proprio con l'Empoli anche se ha un'offerta dell'Almeria e ha preso anche Vesino dalla Fiorentina in prestito.